si ma che noia che barba 10 minuti il server aspetta ma non hai preso i diamanti cosa mi servono i diamanti il tntv non me ne frego un cazzo mo ti faccio dei io tu basta che fai la casa con il ritardato l'ho fatta arriva allora aspetta devo fare una cosa ancora basta che non fai esplodere niente puoi proprio mettere le tntv aspetta dove sta a casa white ma stanta è piccola ti sei sprecato ma perchè è sotto no no di fianco di sotto non so se esplodono e poi è distante 1 non so se funziona così distante e mezzo ce la dovessi mettere proprio sotto allora li facciamo il po' che ritiene il tntv non si sospettirà no ma favolo no però devo dire che c'è tutto il castello dobbiamo rifarlo ci tieni davvero a rifare il castello per un'altra minchiata no me ne frega lo voglio far morire male però dobbiamo farlo aspetta lo devo aspetta che lo vado a diopare lo vado a diopare e lo metto in che modo uno aspetta fammelo diopare operatori con che cazzo di nickname entra ah ma è già deopato lol si l'ho deopato io devi soltanto metterlo in survival e va bene è appena arriva aspetta appena arriva lo metto ma che cazzo sta facendo così quando entra dice che gli abbiamo sbagliato il pavimento noi sotto già c'è tutta la tnt lui apre la cesta che la mettiamo qua si però noi dobbiamo tipparlo qui però lui lo sai dove spawna lui spawna qua mi sa ah no lui spawna da si lui spawna qua è qua sotto lui spawna qua sotto lui spawna beh non ti preoccupare perché guarda lottica e dobbiamo vabbè ok la propria ma facciamo il coro prima facciamo il pavimento di tnt poi facciamo faccio mettere blocchi sopra qui ci mettiamo la cesta ah no la cesta d'entrata cioè così la cesta la mettiamo o no come gliela mettiamo la cesta vabbè poi la cesta la vedete come metterla vabbè la vediamo dopo la vedete come metterla la cesta no perché hai rotto tutto quello eh perché si così io faccio da sopra lo faccio dopo la rimetto lol hai fatto tutto ok beh ma hai un po' esagerato proprio bene non me ne frega lo voglio uccidere male lo voglio quindi sotto si ricopriamo bene aspetta sto coprendo sopra ma la tnt mi sa che la mettiamo se la tnt la la cesta la mettiamo proprio all'entrata però non mi sa che si sospettisce un po' ah cazzo eh togliere un attimo la tnt ok grazie vero mi serve aspetta guarda mi controllo aspetta mi serve un po' di tnt allora l'apro e gli scrivo tnt t n e qui come glielo scrivo no è male però però gli viene male gli viene male tnt come glielo faccio tnt perché viene male ok almeno ti può scrivere così guarda ti faccio vedere una cosa tnt perché una tnt no viene male guarda vieni a scrivere la 3 tnt vieni a scrivere mettiti un po' in survival mettiti un po' in survival no no quel cazzo che mi fai esplodere no 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 voglio voglio no no non ti faccio esplodere stigio voglio provare una cosa mettiti mettiti qua vai fallo no fallo vai vai fallo 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 vuoi te vai a provare te io non mi fido vai a provarlo te quello che devi provare perché c'è tipo della no tu lo vuoi far morire tu lo vuoi far morire con la sabbia no guarda ah lo intrappoli dentro si per questo tu mettiti un po' la per questo ti stavo dicendo aspetta allora voglio vedere se funziona che ho qui eh però solo due eh aspetta ma proprio quel bastardo beh adesso provo a spaccata velocemente aspetta eh si si spocca un po' velocemente dobbiamo mettergli qualcosa più sabbia più sabbia cioè tipo dobbiamo fare tipo i figli di puttana e mettere tipo tanto aspetta un po' aspetta un po' eh ma ma si vede aspetta un po' porco dio ho sbagliato vedi quanto duri è come prima ne so prova a mettermi un'altra tntq un'altra sabbia qua un'altra sabbia normale no la stessa foto eh si vabbè ciao ehm il repeater dobbiamo mettergli eh tanta ne chiede dobbiamo mettere così tanta che non deve uscire da lì deve esplodere dai così dovrebbe abbassare aspetta il repeater perché vabbè metto tipo scrivo tnt in modo piccolo come si chiama repeater qua vabbè tnt ripetitore ma glielo scrivo tnt però tnt come cavolo si ma non riesco a scriverlo perché viene male si ma ne ho scredito non riesco a scriverlo perché la cesta è troppo piccola viene troppo piccola la cesta non posso vabbè gli mettiamo un po' di tnt sparse magari capisce che dici capisce se gli mettiamo un po' di tnt sparse ok attento a non entrare dentro casa che sto mettendo le tnt sotto io te lo dico eh fai boom eh se non stai attento ho messo le tnt io ti consiglio di stare attento non so come si utilizza il ripetitore io ti consiglio di non di stare attento perché se no fai boom però fa come ti pare se vuoi fare boom fa con comodo lo sai come si fa come si fa usare il ripetitore fa uno scazzo con la redstone eh me lo dici fatto ora dobbiamo solo coprire qua sta roba ah viva l'interferenza cristo dio vabbè se è una cosa quando entra dobbiamo fare così guarda ma se gliela mettiamo a mano che senso la noi ci mettiamo qua sopra e iniziamo a no guarda facciamo così e iniziamo qua con la con le leve facciamo così guarda mettiamogli una tanta eh noi noi ci mettiamo io e te qui sopra e iniziamo a spingerla a spingerla beh no facciamo così guarda no ma aspetta un po' che lui cavolo lui guarda come fa guarda guarda tu mi metti la sabbia attento eh che c'è la cosa tu continua a fare un pillare di sabbia in là in cosa dove stai te così guarda lui fa lui fa così e se ne va come fa aspetta guarda tu mettimi un pillare di guarda fammi la sabbia in continuazione no avanti no guarda così devi fare eh no però dopo esce da qui eh si lo so è questo il problema allora dobbiamo fare con l'ossidiano eeeh ma non cade l'ossidiana e la mettiamo manualmente la bedrock a questo punto lui entra così chiediamo la porta la bedrock a questo punto tanto l'ossidiano non esplode adesso sono la bedrock vabbè tanto a lui attento non aprire apra vuole aprire attento quando apri le porte ma tanto cazzo è vero che puoi dire la cosa vabbè lui andiamo qui le hai fatti gli standardi no no mi secca dai falli vabbè io li faccio dalla mia lato ma perché fiove sempre perché non serve di merda come si scrive in inglese standardo eeeh ban banner si banner grazie i love blu il blu è un colore bellissimo però qua avevamo una casa bella vedi mando tutta citata anche qui ci metto il mio banner alcune non è una citata e poi ci metto un cartello sing si mi sono spersi ci metto il mio cartello con porco dio che è brutto ci metto il mio cartello con il suo scritto cartello non funziona o è solo sui server no funziona davvero prova 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 per me è solo sui server però prova no scusa prova dove sei cazzone dove sei adesso ti faccio vedere perché c'è un enderman dentro casa ma stai a casa ecco cosa dici vieni a vedere no bastardo la mia armatura funziona bastardo la mia armatura ridammela ridammela quella è mia strunz gli strunz vattene ma aspetta potremmo fare la trappola della porta sai ti stavo per chittare però dettagli guarda aspetta che mi serve una porta e una cosa che ci mette a terra come si chiama la presupplate piano che appena entri scatta la presupplate e fa saltare le tnt no no guarda la trappola guarda l'ho trovata aspetta ti mette una porta così come ti chiami boys o beagle perché beagle 3ks e questo è di rosciutto privato prosciutto cosa stai facendo non riesco a farla bene questa ti frega ok ok ho fatto dai 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 rotta non c'è andare più è in un così chi entro ma vattene wow non riesco a farla sentire ma vattene Non riesco a farla vedere Guarda, entra una E se ne chiude una No, si chiudono tutte Non so perché E no, l'ho messa male forse Aspetta Se la puoi fare L'ho messa male Perché mi rompite forse Perché l'ho messa male Guarda come si fa Così Da dentro lo devi fare Ma che c'entra Aspetta, fermo Togli tutte le porte di merda Deve essere tutto aperto e chiuso all'inizio Togli Togliti Vedi Fai uno niente Non so come si fa Guarda, guarda, fai Cerca su YouTube Cerca su YouTube O se no, guarda, lui entra Ce lo tipiamo No, guarda, lui entra Buttiamo questo Aspetta Ma perché loro lo fanno coi pistoni Una cosa del genere, mi sembra Devi cercare su YouTube Pedana Aspetta Aspetta Da cercare su YouTube Come si fa Non è che hai messo delle TNT pure qua Nella camera mia No Ok Vado a vedere come si fa Aspetta un attimo Aspetta Se no, guarda Trappola pedana Trappola Delle porte Come si chiama qua, trappola Trappola delle porte Credo Credi No, guarda, facciamo così Guarda, vieni Faccio vedere Aspetta Vieni, vieni, vieni Trappola Oh, frate, vieni Porte Minecraft Stai a chiudere la tua camera 11.2 Eccolo Semplice trappola mortale su Minecraft Contro i ladri Ma che cazzo stai facendo Vabbè, contro i ladri Vabbè, biga Lei è il ladro Guarda, guarda Vieni, vieni Vieni Guarda, se no facciamo così Eh Vieni Eh Aspetta, arriva, arriva, arriva Fuori, fuori, vieni Vai sopra No, però quello è il colpo Un po' il culo Guarda Ma perché registra 30 fps OBS Aspetta un attimo Ma prima funzionava Ma sì Guarda, guarda 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 Forse l'ho fatta Guarda Eh Ah no Quando salta si chiude però È rotta Come è rotta Guarda Guarda Aspetta un attimo Aspetta un attimo Guarda